Salve cari amici tuttubi, sono Francesco e bentornati nella soffetti di camera mio, benvenuti sempre la volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di Che Aria Tira 2, a Paperopoli e Topolini a tutte le vignette di Silvia Ziche. Volume uscito poco tempo fa per festeggiare i 10 anni di Che Aria Tira su Topolino, prezzo di copertina 6€ per 200 pagine. Andiamo con ordine, prima parliamo degli aspetti positivi di questo albo, poi valuteremo anche quelli che sono gli aspetti forse non proprio positivissimi. Innanzitutto, Che Aria Tira, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, sono le vignette di apertura che settimanalmente Silvia Ziche produce. Vignette molto molto carine, qui ne ho presa uno a caso, quindi non potete dire che ne ho scelta una bella, a forza, ho aperto a caso e ne ho presa una delle prime. Sono tutte vignette molto molto carine, molto comiche, molto veloci, delle vere e proprie gag, degli sketch veloci, immediati, pungenti, divertenti, irriverenti. Che ripercorrono un po' anche la storia del Topolino. La storia del Topolino ovviamente è il Che Aria Tira 2 degli ultimi tre anni, dal 2014, dal primo gennaio 2014, fino all'agosto 2017. Tutto quanto le vignette, te le recuperi tutte e le puoi rileggere, rivedendo anche un attimino cosa è successo, cosa non è successo, quali cose si sono avvicendate nel corso degli ultimi anni. Ed è una cosa, un effetto nostalgia, almeno per quanto mi riguarda, piuttosto forte e piuttosto d'impatto. Fa strano pensare che siano già passati tre anni rispetto a queste vignette, all'inizio di queste vignette. E quante cose sono successe nel mentre. Quanti anni è che la Panini, che la Disney, la Panini, Topolino, la divisione italiana di Topolino è stata acquistata dalla Disney ed è uscita la Panini Disney fondamentalmente. Ed è una cosa che ha portato tanti vantaggi, tante belle cose. E anche vedere tutte le varie cose che si sono avvicendate. Fa strano, ma è un po' un difetto più o meno naturale. Le vignette di Silvia Zicche sono molto puntuali, molto attuali, molto sul periodo storico nel quale vengono scritte e concepite fondamentalmente. Quindi, spesso ci rivediamo qui dentro battute, sketch, gag, non uguali, perché sono comunque tutte pensate, tutte... Però, per dirvene una, che è quella che ho trovato forse un pochettino più ricorrente, sotto Natale c'è sempre Zio Paperone che scrive la lettera a Babbo Natale. Ogni volta è diversa, ogni volta c'è uno spunto narrativo, uno sbuzzo diverso, però effettivamente si ha la sensazione, non che Silvia Zicche non abbia idee, perché effettivamente, come dicevo, è sempre Zio Paperone che scrive la lettera a Babbo Natale. E scrive sempre cose diverse, quindi in maniera levemente diversa, ovviamente, vuole sempre arricchirsi Zio Paperone, non è che vuole soldi, vuole sostanza, vuole contenuti fondamentalmente. Però, al di là del questo, si avverte molto leggendolo una certa pesantezza dovuta alla ciclicità degli eventi che vengono parodizzati da Silvia Zicche. Poi ognuno, ovviamente, con la sua specificità, cioè le vignette ambientate a Natale, o comunque d'inverno, hanno la neve, giochi sulla neve e quant'altro, ce ne sono diverse, perché ci sono diverse vignette invernali. C'è il Festival di Sanremo, nel quale si scherza e si gioca sulla musica, c'è San Valentino, dove si scherza e si gioca sull'amore con i vari protagonisti, ci sono ovviamente gli sketch e le battute più primaverili, con la giornata della terra, qualche ritorno celebre che ritorna sulle pagine di Topolino. Tutto questo viene anche contestualizzato, perché in cima a ogni vignetta, vi faccio vedere una vignetta per tutte, come vedete, Tempismo da Social, che contestualizza un attimino questa vignetta, forse... Gli altri del nuovo anno... Cioè, fondamentalmente c'è una breve didascalia che vi contestualizza quando serve, fondamentalmente, perché magari ho beccato due che non servono fondamentalmente, Magari ce n'è una che si sta parodizzando i film sui supereroi, si dice quale film era appena uscito, giustamente per non disorientare, perché dici, vabbè, una delle tante vignette sui supereroi, ma quando è stata fatta, perché? È segnalato, sono segnalati. In aggiunta a questo c'è una bella introduzione, ci sono le matite di Silvia Ziche, con i disegni che poi sono stati ritratti in copertina, sul retro di copertina e tutto quanto, è un'intervista piuttosto sentita, anche da parte dell'autrice, che ci spiega un attimino il suo processo creativo, come si è evoluto, come si evolverà, forse, nel corso dei prossimi anni, questa iniziativa che è nata da un'idea, fondamentalmente, e si è sviluppata e si è protratta per dieci anni, che è una cifra veramente, veramente importante. Lato negativo, sicuramente il prezzo di copertina, a mio parere, cioè, c'è poco da dire, cioè, sei euro per duecento pagine sono tante, se consideriamo che 3,50 euro abbiamo i gialli di Topolino, lievemente più piccolo, però la foliazione è lievemente più alta. Tuttavia, quello che vi posso sicuramente garantire, so che non posso farvelo vedere, perché tattilmente non ve lo posso far sentire, quest'albo qui ha una brossura fatta, sinceramente, decisamente molto meglio, si apre meglio, si sfoglia meglio, si, proprio, ha dei materiali più spessi, la carta è decisamente, cioè, se fate il confronto, il chiari a tira due, sembra il doppio dei gialli di Topolino, e i gialli di Topolino è più lungo. Quindi, per darvi un metro di paragone, è sicuramente un volume curato, fatto bene, ed è questo che, spesso e volentieri, accetto di pagare qualcosina di più. Cioè, se mi fanno una ristampa di una storia indimenticabile di Topolino, su un bel formato, l'acquisto anche, magari, solo perché è una bella storia in un bel formato. Poi, è chiaro che non è adatto alle tasche di tutti, magari, ed è forse questo il caso, aver fatto un prodotto comunque su una nicchia, comunque con una, diciamo, una confezione piuttosto ben curata. Chiaramente, ovviamente, la buona qualità dei materiali, il materiale prodotto ex novo, c'è una vignetta fatta ex novo solo per quest'albo, c'è l'intervista fatta solo per quest'albo, ha sicuramente comportato dei costi, non so quanto sia giustificato il 6€ per il lavoro che è stato fatto dietro, però, ve la lascio lì, cioè, forse il pezzo risulta un pochettino più alto, però, non è, secondo me, è un pochettino più alto di quanto dovrebbe, ma non più di troppo, fondamentalmente. Quest'albo qui, ovviamente, essendo il 2, esistiva, tempo fa, un 1, che adesso vi faccio vedere, è grosso il doppio del secondo, perché contiene 380 pagine, ma non contiene, non contiene interviste, bozzettini, qua e là, comunque ha un'ottima confezione, ha un'ottima confezione, un buon packaging, come si direbbe, ha comunque, mi sembra, sempre quella stessa buona brossura del Chiara Tira 2, ed è sempre bianco, quindi è molto, molto gradevole, anche alla vista. Detto questo, vi consiglio di recuperare questo Chiara Tira 2, secondo me vale la pena, può valere la pena, se vi piacciono questo tipo di gag, se vi piacciono questo tipo di trovate comiche, che potete trovare sempre su Topolino, e soprattutto, se avete già, o avete intenzione anche di recuperare, il primo volume, che contiene le prime vignette, cioè, di questo qui, ve lo faccio vedere, ve lo cito, ve lo nomino, perché è il precedente di questo. Ci sono altri difetti? Sì, su Popper Sera c'è tutto un elenco di cose che potevano essere aggiunte a questo secondo volume, ci sono dei Chiara Tira che erano usciti solo sul digitale, in determinati albi particolari, qualche errata corrige rispetto al volume 1, che si sono dimenticati certe disascalie, che sicuramente avrebbero arricchito un pochettino di più il volume, che gli avrebbero dato quelle 30-40 paginine in più, che, non dico avrebbero giustificato i 6 euro di copertina, o avrebbero giustificato poi ad un lettore casuale, perché, non dimentichiamo, cioè, io ho quello che spesso e volentieri tendo anch'io involontariamente a dire, e costa tanto per essere un albo Disney, però altri editori, altre case editrici, o anche la stessa Panini, in realtà, per prodotti come questo, chiederebbe forse la stessa cifra, se non di più. Quindi, anche cercare di capire qual è effettivamente il prezzo di mercato di un prodotto come questo, sarebbe veramente interessante per poter capire e giustificare il prezzo di copertina assegnato a questo albo. Non vorrei che fosse semplicemente un errore, tra virgolette, visto che il primo aveva quel prezzo, lo trasmettiamo anche al secondo, spero che ci siano altri tipi di ragionamenti dietro. Ovviamente, come dicevo in precedenza, non vi dico di comprare a tutti i costi mai niente. A me è un albo che è piaciuto, ha fatto sorridere, ha fatto divertire, lo porterò con me nei prossimi giorni per farlo leggere, farlo conoscere ad altri, che magari possono apprezzare questo tipo di comicità, e magari a loro volta loro lo compreranno. Non è detto che non lo facciano, perché comunque, voglio dire, non stiamo parlando di una cifra irraggiungibile. Però capisco perfettamente che nel piano economico di una persona appassionata di fumetti, sei ore in più o sei ore in meno, fanno la differenza. Per quanto mi riguarda, se la vostra edicola di fiducia ve lo permette, per giusto una sfogliata, vedere se due o tre gag prese randomicamente dall'albo fanno per voi prima di acquistare l'albo, io un'occhiata ce la darei. Anche perché, come vi dicevo, ve l'ho sfogliato, sono gag di una pagina, quindi ne leggete due o tre e capite qual è l'antifona. Se vi fa ridere, vi fa ridere. Se non vi piacciono, se non vi dicono niente, non vi dicono niente comunque, non vi direbbero niente neanche se acquistate l'intero albo. Quindi dateci anche voi un'occhiata, magari qui sotto nei commenti ditemi che cosa ne pensate, se lo avete acquistato, se lo acquisterete, e perché lo acquisterete o perché non lo acquisterete. Discutiamone qui sotto nei commenti e noi ci vediamo dalla prossima video opinione del canale. Ciao!